ed eccoci qua cari amici nettiani anche oggi voglio salutare tutti i nuovi membri della community vi ricordo che per entrare in community basta andare su telegram e cercare we are the net c'è il mio canale poi clicchate su discuti si entri in community oppure link diretto https www.fabio.media.com e si entra immediatamente grazie grazie a tutti i nuovi iscritti molto bene oggi vi parlo di una cosa e che probabilmente già utilizzate normalmente molto probabilmente non lo so che sono le storie soprattutto le storie di instagram le storie di instagram sono quella parte di instagram che ha più visibilità molto di più del della bacheca ma perché rientra in risorse questa questa cosa potevo fare la rubrica appunti no su questa cosa qua e ho pensato a risorse perché perché bisogna utilizzare questa funzione proprio come una risorsa la cosa migliore da fare a parer mio e utilizzare il la griglia delle foto eccetera per diciamo il crearsi le foto quelle più belle le foto quelle più studiate magari fatte se avete un'attività fatte dal fotografo ricordatevi sempre se pubblicate qualcosa di mettere una didascalia è importantissimo perché senza la didascalia si va un po a perdere l'utente non sa cosa stiamo guardando poi occhio che normalmente le immagini che sono più come dire vere ovvero senza molte grafiche intorno per esempio quello che pubblico io su sul mio account instagram non avrebbero pubblicate lì lo faccio perché sono una cosa veloce per me punto più che altro sulla qual sulla quantità in questo caso però se voi avete una foto e vi faccio l'esempio dell'altro giorno pubblicato una copertina del podcast e c'era anche la mia faccia e quella è diventata molto virale ma non perché c'è la mia faccia perché sono bello e perché riconosce quando ci sono le quando ci sono le volte di persone eccetera e quelle cose la fa diventare virale quello la pubblicate la foto bella la pubblicate direttamente sulla sulla griglia di instagram le storie invece sono un po più il quotidiano ovvero faccio anche il video da 30 secondi quello un video spezzettato chi se ne frega non è quella la cosa importante l'importante non è neanche importante la qualità anzi molto molto spesso la qualità non conta assolutamente niente e qui si conta la quantità con te esserci perché guardare le storie è un po come guardare la televisione quindi quando si fa uno zap uno zapping e tutti fai gli affari degli altri praticamente un gioco questo perché nel senso tu che pubblichi vuoi che ti facciano i tuoi affari soprattutto se io ovviamente lo penso lato business non lato passatempo quello non me ne frega niente però il nel lato business sì quindi hai un negozio metti nella griglia delle foto le foto belle del negozio ok l'ultima l'ultimo arrivo la foto con il modello la modella quello che ti pare nelle griglie fai vedere scusate nelle storie fai vedere quello che c'è la quotidianità la quotidianità che nessun altro ti potrà dare quindi una fotina arriva una cosa arriva il corriere tutto tutto quello che ti viene in mente lo puoi pubblicare lì fai vedere come si vive il tuo business quotidiano volete che utilizzare le storie è un'arte perché ci sono ci sono persone che hanno fatto la fortuna grazie soprattutto alle storie mi viene in mente che se provate a seguire il l'account di camihawk cercate camihawk su su instagram vedete quanto usa le storie per fare qualsiasi cosa poi crea anche delle rubriche tramite le storie io per un po di tempo ho avuto la rubrica matti stigi di 24 sulle storie devo dire che funzionava abbastanza bene e poi il tram tram mi ha fatto perdere questa cosa però se uno vuole presidiare questo social network assolutamente foto belle vanno ehm quelle foto diciamo quelle più senza usare tanti filtri eh se potete eh vanno nel nella griglia foto eh tutto foto video ovviamente video foto della quotidianità quella one shot pum la butto su quella invece va su ehm sulle storie poi pensate che eh questa è una cosa che vedrete tra un po sfrutterò anch'io eh sulle storie si possono fare le dirette e le dirette hanno un'ottima visibilità su instagram anzitutto perché vi 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 bordano il il l'account di rosso nella foto dell'account di rosso quindi e vi scrivono live eh e poi altra cosa eh potete volendo riutilizzare è vero che non si possono scaricare le dirette però guardandole dal pc registrandole per esempio con OBS che registra lo schermo del pc eh potete utilizzare le vostre storie per farvi dei filmati poi ci sono anche dei programmi eh che permettono di registrare direttamente dal dal cellulare eh per iphone per esempio c'è screencast e per android eh c'è story save e poi mi pare ci sia anche eh instagram story downloader chrome instagram story una roba del genere sono due estensioni di eh di chrome non è per android e per chrome quindi si possono utilizzare eh tranquillamente e scaricarle in qualsiasi momento quindi è una cosa eh è una cosa buona e utilizzare il la diretta e pensate potrei registrare eh un podcast eh su instagram e poi salvarmelo e farlo diventare un video anche per per facebook compagnia bella e poi farlo diventare un podcast vero e proprio perché mi registro l'audio in questo modo poi ultimamente ho visto che stanno eh instagram sta introducendo tramite la modalità layout e la possibilità di mettere sei foto in una sola storia sei immagini in una sola storia dovrebbe funzionare così non l'ho ancora provato e quindi stanno cercando di implementare in realtà molto più di instagram tv eh che è un pochino fermo su se stesso in questo momento non funziona benissimo doveva essere soltanto le instagram tv per chi non lo conoscesse quella piccola televisione che compare il sulla sull'angolo alto a destra del dell'applicazione e per adesso non funziona un gran che prima doveva essere soltanto filmati verticali poi abbiamo visto che non funzionava quindi ha messo anche quelli orizzontali ma per adesso potete caricare i video da dieci minuti però la cosa importante di questa puntata di risorse che le le storie sono una risorsa per il quotidiano anche quando vi danno fate che ne so il date il profilo da aggiornare a qualcuno a un social media coso ciao ale quando dato il social media coso il social media coso può aggiornarvi la parte della griglia la parte delle storie è una parte che dovete fare voi perché c'è il quotidiano siete voi che vivete l'azienda siete voi che vivete il negozio siete voi che vivete la quotidianità della vostra attività puoi seguire il podcast dal sito we are the net punto it oppure sulle piattaforme spreaker spotify itunes youtube tune in altrimenti cercaci su telegram facebook o instagram ciao a tutti